Mi siedo al tavolino, voglio il massimo che c'è, ricette raffinate, come faccio al ghertino, di no, di no, mi voglio far del bene. Sono pochi favolosi, con ricette lavorate, sono buone esagerate, l'occhio mi invita, l'ho fatto mattizzare, la gola mi tirà. E io ti mangio il rock, e io ti mangio il rock, e io ti mangio il rock. Branda Cuyun di Baccalà San Giovanni è il protagonista della puntata odierna delle grandi ricette di RTV38. Ci propone questo piatto lo chef Angelo Torcigliani del ristorante Il Merlo. Io adesso vi parlo del Baccalà, perché vogliamo chiarire bene la differenza tra Baccalà Stoccafisso e Baccalà San Giovanni. Tutti nascono dal merluzzo, intanto c'è da dire che il Baccalà e lo Stoccafisso sono tipici della Norvegia, di quei paesi lì, mentre il San Giovanni è canadese. La differenza tra Baccalà e Stoccafisso sta nel fatto che il Baccalà è salato, mentre lo Stoccafisso è essiccato. Il San Giovanni, quello canadese, che è il più pregiato, che è il re dei Baccalà, ha un procedimento misto, molto particolare, quasi segreto, che gli conferisce quella consistenza davvero incredibile. Ma il Brandacujun che roba è? Allora, il Brandacujun è una ricetta ligure. Naturalmente, essendo una ricetta rivierasca, secondo la distanza tra una città e l'altra, cambia un po', perché lungo tutta la costa si dipana questa ricetta. Ecco, un po' come tante grandi ricette italiane. Ma il Brandacujun è da brandire, ma anche che lo brandiva il coglione di turno, perché è un piatto che richiede manualità fisica, cioè va scosso, va emulsionato per, diciamo, scuotimento. Ecco, perciò il più sprovveduto gli veniva affidato. E allora oggi noi faremo il Brandacujun, una ricetta davvero unica, mai vista, originalissima, che risale però all'antichità, e ve la proponiamo qui alle grandi ricette di RTV38. In cucina, qui nella splendida tenuta del 1500 della Badiola, incontriamo il nostro Fiorenzo Bresciani, che è andato a fare la spesa. Eccoli gli ingredienti del Brandacujun. Allora, abbiamo, partiamo dal baccalà San Giovanni. Vedete la consistenza di questo baccalà, che spettacolarità, eh? Sì, qui abbiamo la parte proprio qua su dell'orecchio, che è una parte molto liscosa, però molto saporita, e molto ricca di collagene. E qui vediamo già il colore del San Giovanni, tendente più al giallognolo. Proprio per questa essiccatura qui. Invece il baccalà norvegese rimane sempre molto più bianco, e molto più simile al sapore originario del pesce. Ecco, poi, sul finire della ricetta, verranno aperte anche delle uova. Però vedete, Angelo ci ha portato delle uova particolari, sono uova rosse, fatte dalla gallina? Dalla razza Marans, che mi ha portato ieri quest'amico qui, ho detto le porto là, così magari... È una particolarità in più, si può fare questo piatto anche con le uova di gallinati. Poi qui abbiamo le olive, abbiamo dei pinoli, noi usiamo quelli di San Rossore, che sono quelli migliori in assoluto. Poi qui, che cosa abbiamo? Timo, rosmarino. Timo, rosmarino, quello che viene chiamato peporino a Camaiore. Qui abbiamo delle erbette. Che questa, ecco, diciamo, è la licenza poetica di oggi, perché gli diamo a questo piatto qui una nota un po' vegetale, un po' che ricorda anche l'entroterra, delle erbettine appena raccolte di campo, che secondo me ci stanno bene. C'è un po' di tutto, qui vedo c'è della pimpinella, c'è della scetosella, eccetera, eccetera. Io vi ricordo sempre, Selvaggia, la festa delle erbe spontanee, le fiori e le gemme che c'è a Castelnuovo di Garfagnana in primavera. Speriamo di andare avanti con questa manifestazione. E invece, per quanto riguarda la ricetta, adesso passiamo al procedimento, ma prima siamo curiosi di capire da Fiorenzo Bresciani che cosa farà oggi. Ah beh, oggi è una cosa molto particolare e utile soprattutto, lo smacchiatore fai da te, per qualsiasi tipo di macchia. Bene, allora vai nella tua postazione, dopo ci dirà tutti gli ingredienti per realizzare in casa uno smacchiatore efficace su tutti i tipi di macchia. Noi abbiamo fatto cuocere il baccalà, come è stato cotto Angelo il baccalà? Allora, qui abbiamo il baccalà che abbiamo cotto a una temperatura tra i 60 e i 70 gradi, in olio extravergine di oliva. Brucia? Brucia? No, eccola qui. In una pentola di ghisa a fondo pesante, con dell'aglio, del rosmarino e poco timo. L'abbiamo fatto cuocere circa 10-15 minuti, basta che la fibra del baccalà si rilassi un attimo, riposando nell'olio, basta poco di cottura perché dopo che si compie la magia il baccalà si allenta e la scaglia si rompe e diventa... Vedete, ora poi ve lo faccio vedere quando diventa quello che... Quindi si parte, noi ci siamo ovviamente portati avanti, facendo cuocere 10 minuti e un quarto d'ora il baccalà ricoperto d'olio. Ricoperto d'olio. Con gli odori, praticamente l'aglio e il rosmarino eccetera. Prima di macchia... Ma ha ragione, ma il mio casalingo mi ricorda questo bel grembule che ha fatto Busatti, come le nostre apparecchiature. Io vorrei che Simone adesso piano piano, con la sua magia, ci inquadrasse il nostro desco. Guardate che bella apparecchiatura che ci porta Busatti tutte le volte qui alle grandi ricette. Ma c'è di più, c'è di più, c'è il grembule con la firma. Bene. Allora, noi abbiamo tolto l'olio in eccesso di qui. Attenzione, quindi torniamo, torniamo, torniamo su di noi. Aspetta che lì forse si è impallato dal pane. Spostiamo o vieni più nel centro, perché adesso è un passaggio importante questo, no? Allora, ora andiamo a praticamente a mano a spolpare il baccalà, cercando di levare le lische il più possibile. La pelle, casomai un pochino di pelle la possiamo lasciare, perché la pelle è quella che poi gli conferisce anche quella la cremosità. Noi vogliamo che sia sempre un po' cremoso, no? Il baccalà, un po' perché è una ricetta, è una brandade un po' slegata, il brandacujun, fatto nel sistema che si può mangiare a Genova. È una sorta di un'insalata non insalata e brandade non brandade. È una cosa un po' scomposta così. Difficile da spiegare, ma magari dopo magari ci riusciamo. No, no, ma lo spieghiamo con i fatti, perché praticamente questo è un modo di emulsionare, di brandire il baccalà in maniera molto artigianale, vera. Sì, ma poi non creiamo un vero brandato, un vero baccalà mantecato, come per esempio fanno nel nord Italia. Noi facciamo una cosa che è un po' una via di mezzo, voglio dire. Tra un baccalà mantecato e un baccalà invece saltato in padella. No, no, non saltato in padella, tipo a insalata. A insalata, sì, sì, prima leggermente salata e poi servita a insalata. Ecco, quindi è una ricetta questa originalissima, è una grande ricetta ligure, che noi vi proponiamo qui stasera. Tutte le sere siamo su RTV38, tranne il sabato, tutte le sere abbiamo dei cuochi diversi, ognuno con il suo stile, ognuno con le sue caratteristiche. Quindi spaziamo, magari domani cuciniamo una cosa orientale, poi faremo una cosa della tradizione, e poi faremo una cosa raffinatissima. Stasera lo chef Angelo Torciliani del ristorante Il Merlo di Lido di Camaiore ci propone questo piatto davvero eccezionale. E' uno sbattimento questo qui, è uno sbattimento, che in Liguria chiamano branda cuion. Branda cuion. Perché c'è, e lo diciamo questa parola, c'è il coglione di turno che sta lì mezz'ora a fare così. A fare questo, a creare questo. Sta a vedere che tocca a me, eh, lo so, lo so che va a finire. E' per questo che quando cucinavo col Breschi lo sbattimento diceva fallo te, no? C'era da sbattere una cosa, perché era il branda cuion di turno. Poi naturalmente noi questo piatto qui lo possiamo fare con le forme più... Però secondo me è bello che anche la patata sia grossolana, un punto che si sente una consistenza, un altro punto che si spa un po' e va a creare... Cioè, vogliamo creare... Questo è un piatto fondamentalmente, secondo me, di pescatori, un piatto un po' fatto così... Un piatto unico, un piatto semplice. Bello, bello, però bello perché ha tutte le caratteristiche per essere buono. Abbiamo il baccalà San Giovanni che è il re dei baccalà, eh, e diciamo che il baccalà San Giovanni non lo regalano. Una volta lo regalavano ma ora andiamo sui 28-30 euro al chilo, quindi è un piatto anche importante dal punto di vista economico. Adesso lui sta aggiungendo i pinoli. Abbiamo messo i pinoli e le olività giasche. Le olività giasche le possiamo mettere sia a pezzettini che interi. Io l'ho messo interi perché quando viene l'oliva è... La senti? Tac, è più... Ecco, quindi il baccalà si può fare in tanti modi, no? E abbiamo, come diceva lui, il discorso del mantecato, eccetera. Ma qui invece abbiamo un baccalà importante che lo sentiamo in bocca, cioè una cosa vera. Rendiamo omaggio, credo, al baccalà, no? Che in fondo è un pesce che è tipico delle città non di mare. È un pesce che... Dell'entroterra. Sì, perché la sua carnosità, un po', soprattutto il San Giovanni, richiama vagamente anche alla carne. C'è una bella consistenza, insomma, no? Sì, poi questo è molto scambiore. L'acqua che elimina la plastica. Eccolo. E vedi, vedi, vedi. Ora ci andiamo a mettere un po' di aglio schiacciato, così in modo... Ecco. Ma vedi il casalingo si preoccupa della mia salute, vuole che beva acqua, l'acqua che elimina la plastica. Dove l'hai messo il depuratore? Sotto, sotto il lavandino, sotto il lavandino, eccolo qua. E allora, siccome stai bravo, dopo ti faccio anche il caffè, eh? Perfetto. Caffè toscano, segni d'arte, di tutti i gusti. Lui lo vuole decaffeinato, te lo do anche decaffeinato. E ora ci mettiamo l'olio della cottura. Non si butta via niente. Nulla. Un piatto totale. Allora. Andiamo a prendere il coperchio. E ora che arriva il bello. E ora si compie la magia. Attenzione, ora si compie la magia. Eccolo qui, il branda con il va sbattuto. Va sbattuto. Altro che centrifuga, eh? E qui ci vuole forza. E proviamo. Tocca a me fare il coglione di tutto. Vado, vado. Ragazzi, ma qui stiamo facendo del food porn, eh? Food porn. Ma che è questa roba qui? Vai. Ma con più forza, con più forza. E vai. E vai. È liberatorio. Prova un po'. Prova un po'. Prova un po' il casalingo. Vai. È peso. Mamma mia. No, no, no. Non è per me. Il casalingo è per me. Non è per me. Vediamo, adesso apriamo e vediamo. No, aspettiamo un attimo, lasciamolo qui. Tanto ora bisogna andare a cucinare l'uovo in camicia. Bravo, l'uovo in camicia. Quindi abbiamo... ...la. L'uovo in camicia. Per cucinare l'uovo in camicia acqua senza sale e un goccio d'aceto. Se te lo fai... Ah. Ce l'hai l'aceto? Ce l'ha lui senza sale? Sì, ce l'abbiamo anche qui. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Con l'uovo in camicia ci vuole un goccio d'aceto. Perché? Ma perché leva quel frescume. Poi sicuramente facilita il meccanismo della ricerca. Creiamo questo mulinello per cercare di fare andare al centro l'uovo, di modo che l'albume si imparenti con il tuorlo, via. E lo lasciamo cuorso. Abbassiamo un attimo. Ecco, quando lo butti l'abbassi, eh? Sì, ora deve bollire piano. Deve bollire piano. Quando viene su bene... Deve so bollire. So bollire. E così vi insegniamo anche a fare un uovo in camicia, che sembra una cosa facile, ma facile non è, eh? Vedete come viene la... Ma soprattutto per fare l'uovo in camicia, il trucco più... Non ci sono trucchi. Ci vuole l'uovo che sia freschissimo. Perché l'albume è ancora bello sodo e quando non lo butti nell'acqua non va per conto suo. Per esempio d'estate, che la gallina beve molto, perciò l'albume è molto acquoso, d'estate fare le uova in camicia è un casino. Invece d'inverno, con, diciamo, le temperature e tutto quanto... L'uovo in camicia, vedete? Questa è parte che erano uova freschissime, no? Uova rosse, eh? Uova marans. Uova rosse per te. Ho comprato stasera. Cambiamo la canzone, guardate, è bellina, eh? Ora preparo il piatto per l'infettamento. Attenzione perché c'è il sottopiatto che era sporco e il nostro casalingo l'ha pulito, perché qui come c'è una cosa sporca... Eccolo, eccolo! Eccolo, guardate come è venuto, è perfetto come sempre. Allora calma, 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 perché adesso andiamo... Abbiamo riso e scherzato, ma questo piatto è un piatto davvero unico e straordinario, un piatto ligure, è un modo di fare il baccalà molto rustico ma saporito, vero, vero. E poi cucinato così con l'uovo, a Genova lo fanno con l'uovo sodo, però cucinato anche così diventa anche un pochino più gourmet, ecco. Non lo volevo dire, ma me l'hai fatto dire. No, non lo devi dire. Non lo devo dire. E poi è un piatto unico, perché dove c'è il baccalà, c'è il pesce, abbiamo qualche insalata, c'è la patata e c'è l'uovo. Questo qui è un piatto che si mangia con dei crostoni di pane. È molto appetitoso. Allora aspetta a levare l'uovo. No, no, no. Io vado dal casalingo che mi dice allora come fare questo smacchiatore. Eccoci. Ma gli ingredienti li abbiamo detti dello smacchiatore? Gli ingredienti sono due. Acqua ossigenata, detersivo per i piatti. Basta. Quindi con la semplice acqua ossigenata e detersivo per i piatti si può realizzare un smacchiatore fai da te. Vediamo se funziona. Perfetto. Che macchia è quella lì? Questa è una macchia di sugo. Aspetta, vai. Ecco, lui smacchia, mentre lui smacchia noi adesso leviamo l'uovo perché sennò diventa un problema, no? Togliamo quindi l'uovo. Eccolo lì, guardate bellino che bella camicina che gli abbiamo fatto. Porto via il fornellino perché adesso andiamo a impiattare lo straordinario piatto che ci ha proposto il nostro cuciniere Angelo Torcigliani del ristorante Il Merlo di Camaiore. Continuiamo questo brand a cuion, sbattiamo, sbattiamo. E il miracolo è fatto. Guardate, guardate perché avete visto, sbatti, sbatti, l'emulsione che si diceva è perfettamente venuta. Guardate che bello, che cremosità. Questa è una cremosità autentica. Certo, certo. E poi non è una cremosità fino a se stessa. Qui si sente il baccalà come ingrediente, come pezzo e intorno c'è questa camicia qui di emulsione, di collagene e di olio extravergine della sua cottura. Perciò non appare neanche pesante perché è una sorta di insalata slegata, una brandade insalata. Cioè, è veramente un piatto particolarissimo che ci consente di cucinare il baccalà che è un pesce straordinario. Noi italiani siamo grandi consumatori di baccalà, siamo tra i primi consumatori al mondo. Pensate che dove lo fanno il baccalà non lo mangiano così come lo fanno, lo fanno solo per venderlo. Allora, questo lo mettiamo qui, là, al centro perché adesso vediamo che succede. Vediamo che arrivano in ballo le erbette. Come abbiamo detto qui c'è un mix di erbette, c'è un po' di acetosella, un po' di pimpinella perché vi dovete ricordare che l'insalata non è bella se non c'è la pimpinella. E poi, e orecchie di lepre, insomma, attenzione che arriva l'uovo. Bellino. Ma lo spacchi, no? Attenzione perché si spacca anche l'uovo. Un pochino di pepe. Il pepe perché col baccalà, le patate, l'olio, il pepe è il massimo. E l'uovo, soprattutto sull'uovo. Allora, prima di spaccare l'uovo, volevo sapere se il nostro casalingo era riuscito a mandarvi alla macchia. Sì, naturalmente. Vedete, però, all'operatore, non a me. Vedete, a casa compriamo tanti smacchiatori che costano anche tanti soldi. Il nostro casalingo ci spiega, con due semplici ingredienti, come realizzare in casa da soli uno smacchiatore fai da zè che funziona. Ripetiamo gli ingredienti. Acqua assicinata al 3%, sapone per i piatti, uno spazzolino e basta. E poi l'ingrediente segreto, il famoso olio di gomito. Bene, è riuscito a farla davvero bene. Adesso noi stiamo per realizzare pienamente il piatto. Mi piace questa tua, come sempre Angelo si conosce dalla vita, questa tua passione. Perché te quando parli di queste cose mi metti appetito, no? È una passione innata. Questo è un piatto che fai nel tuo ristorante? Lo faccio qualche volta, lo faccio qualche volta perché è un piatto veramente identificativo di una regione che non è la Toscana più la Liguria. E poi ora, avendo più un locale sul mare, prediligo di più i pesci freschi. Lo faccio per occasioni, per cena a tema, per chi me lo chiede. Però ecco, questo secondo me ha proprio una sua... Però lo faccio ogni tanto. Piatto appetitoso, poi con la consistenza del baccalà, l'erbetta che ti pulisce la bocca, l'uovo che lega il tutto. Insomma, è veramente un grande piatto. Poi aspetta, perché io dopo, nell'intingolo, ci insupperei questo panino. Che non è un panino a caso, è il pane che fa lui con le farine della Versilia, macinate a pietra, come si deve dal mulino Angeli, lievito madre, grande cottura, farine straordinarie. Io ho a levarmelo di mano, se no la bocco, questa fettina di pane. E adesso quindi possiamo spaccare l'uovo. Attenzione, perché il brand Acouillon prende definitivamente forma. Eccolo qua. E si lega il tutto. Eccolo. Fermo lì, lo vediamo, lo vediamo. Quindi, un piatto davvero incredibile, che ha anche una tradizione abbastanza antica, questo piatto. Invece, tornando a parlare di te, cos'è che si mangia quest'estate? Cosa si è mangiato di più in Versilia, nel tuo ristorante di pesci? Ma io prediligo i pesci della pesca locale. Naturalmente, da noi, molte massancolle, gli sparnocchi, il polpo locale, le seppie, le triglie. Faccio un piatto con le triglie e lo zafferano, che ora lo stanno facendo anche a Camaiore. Secondo me è un piatto un po' che ricorda, se vogliamo, la buiabesse. Però io ci faccio una pasta, perché lo zafferano, il pesce di scoglio, insomma, io ci creo questa pasta qui con le triglie, lo zafferano, qualche cozza. Ecco, perché in fondo la Versilia si presta molto a unire il pesce con quella che è l'entroterra, che riguarda le erbette, che riguarda le verdure particolari, perché stanno molto bene insieme. Il problema è che le erbette d'estate con il secco non ci sono. E' inutile che ci raccontiamo, sono solo coltivate, ma d'estate queste sono le prime della stagione, che mi portano dei raccoglitori. Ma diciamolo, Robert Barbiere, il nostro amico, salutiamolo. Eh, Dio buono. Mitico personaggio, no? Ecco, quindi allora, per chiudere vorrei che accanto a me il casalingo, questo era il piatto di stasera. Domani sera saremo ancora qui con un'altra ricetta, ce n'è per tutti i gusti. Noi ringraziamo Angelo Torcigliani del ristorante Il Merlio di Vido di Camaiore. Il piatto è il famoso? Branda Cuyon. Branda Cuyon di Baccalà San Giovanni. Allora, è tutto. Domani sera, siamo qui tutte le sere, tranne il sabato. Ciao. Ed io ti mangio il rock! Ed io ti mangio il rock! Ed io ti mangio il rock! Ed io ti mangio il rock!